Un annuncio di 2000 potenziali posti di lavoro nel sistema Fincantieri è un annuncio così importante che non può limitarsi a favorire titoli dei giornali e se vogliamo a creare una dicotomia strumentale rispetto alla provenienza di questi laboratori. Una buona notizia che però va gestita con il coinvolgimento di tutto il territorio. Ne è convinto il gruppo PD in consiglio regionale in merito al recente annuncio dell'amministratore delegato di Fincantieri Bono di voler assumere circa 2000 persone nei prossimi tre anni. Una partita importantissima hanno spiegato i consiglieri Cosolini e Moretti che non può essere lasciata ai singoli attori interessati. Di qui l'invito alla giunta Fedriga a promuovere un accordo strategico tra gli enti locali della regione, il mondo della formazione, i sindacati e naturalmente l'azienda. Ce n'è insomma di argomenti per un grande accordo strategico che impegni la regione, che impegni l'azienda, che impegni il sistema delle scuole della formazione professionale, che impegni anche le organizzazioni sindacali. In questo senso vanno le nostre considerazioni di oggi. Tra i problemi da affrontare in modo congiunto, quello del reperimento della mano d'opera preparata e specializzata attraverso percorsi formativi nei quali coinvolgere le scuole della regione, ma anche i controlli per la regolarità dei salari e delle condizioni di sicurezza nel sistema degli appalti. 2.000 persone sono una risposta ai problemi occupazionali del territorio molto importante e quindi bisogna che tutti quanti facciano la loro parte. Vuol dire anche che Fincantieri, quando parla di 2.000 persone, di cui l'80% sarebbero non nell'azienda Fincantieri, bensì nelle aziende della filiera, deve in qualche modo farsi garante di un sistema di rispetto delle regole e dei diritti dei contratti di lavoro che possa estendersi a tutta la filiera di imprese.